Ciao, mi chiamo Rossano Prudensi, ho un lavoro dipendente senza sbocchi economici e professionali e guadagno appena per arrivare a stento al successivo stipendio. Ho sempre sostenuto però che internet potesse essere una grandissima opportunità per crearsi un'attività di successo sia per guadagni sia per crescita professionale. Da qualche tempo quindi ho deciso di buttarmi nell'online con un'attività di network marketing ma anche nel marketing online con le affiliazioni. Quello che mi mancava però era capire sin da subito come poter avere continuamente e tutti i mesi contatti estremamente targettizzati di potenziali collaboratori e clienti. Per questo motivo ho seguito diversi corsi soprattutto su Facebook Ads e spesso credo tra tutto più di 1000 euro ma credimi non sono mai riuscito ad avere alcun risultato se non creare piccole liste di potenziali contatti che sinceramente non so neanche se siano in target. Quindi mai una sola vendita e mai un solo collaboratore per la mia attività di network. Convinto comunque che Facebook Ads potesse essere l'arma vincente in assoluto per trovare nuovi contatti ho continuato la mia ricerca di qualcuno che potesse realmente darmi ciò di cui avevo bisogno. Così mi sono imbattuto in un annuncio di Raffaele Facebook Ads Academy. Lo contattai e gli spiegai di avere dei problemi. Fissammo un appuntamento telefonico e in quella mezz'ora mi spiegò più lui gratuitamente svelandomi anche piccole strategie che tutti gli altri corsi seguiti messi insieme. Particolari che gli altri non ne avevano neanche accennato l'esistenza. Ho subito deciso di acquistare Facebook Ads Academy e seguendo nelle lezioni mi si è aperto un mondo che ignoravo. Lezioni stra-pratiche, spiegate passo passo maniacalmente, senza lasciare nulla al caso. E' cosa molto importante con degli esercizi da fare in quasi tutti i moduli prima di passare alla lezione successiva. Raffaele e il suo staff sono sempre disponibili a dare tutto il supporto di cui necessitiamo e immediato. Non mi era mai capitato di avere addirittura il contatto telefonico e un whatsapp diretto per velocizzare domande e risposte di supporto. Insomma, tra i tantissimi punti di forza di Facebook Ads Academy, il supporto ricopre un posto di primissimo piano. Non si è mai lasciati soli. Mai. Se consiglierei Facebook Ads Academy, non solo lo consiglierei, ma credo anche sia il corso su Facebook Ads, concreto, diretto e soprattutto creato da chi fa questo lavoro da molti anni, che ha dovuto superare mille difficoltà con una piattaforma che è in continua evoluzione, capendone i veri segreti del suo algoritmo, e sviluppare quindi strategie sempre vincenti e aggiornate. Ciao da Rossano.